In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni, Unipol Sai Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it slash romagnafutura. Ti aspettiamo! Edizione numero 37 della festa di primavera. Abbiamo visto il caldo a Fosa, abbiamo visto la pioggia e oggi è la giornata perfetta per correre qui a Marina di Ravenna, anche in condizioni perfette per quanto riguarda una gara che è corta, ma poi non è da prendere troppo sotto gamba perché è molto veloce, vero Celestino? Sì, il tempo fino a questa mattina c'era un sole che spaccava, adesso invece il tempo è quello che è, però speriamo che non piova, questo sicuramente. Detto questo facciamo gli scongiuri e parliamo della gara. Sì, allora la gara come già conosciamo da 37 anni, non proprio 37 perché alcune edizioni le abbiamo fatte a Porto Corsini, cosa voglio dire? Sì, percorso interamente, non direi neanche tanto pianeggiante perché c'è anche un po' di salisendi. Sì, è molto bello, è Pineta. Molto bello, sì, qui c'è solo Pineta, è un percorso esclusivamente... Naturalistico. Esatto, è terreno, è terreno. Allora, cosa voglio dire? Le radici. Sì, ecco, attenzione alle radici ragazzi perché qui ogni tanto qualche d'uno cade... Non me la scelgono proprio per questo. Ah sì, forse te dici, eh. Sì, sì, quello già è caratteristico però bisogna stare molto attenti. Partecipanti che arrivano anche da Forlì, insomma, sono tanti. Ho visto i vici dell'Avis Forlì ma non solo. Ancora adesso non so dire quanta gente si è venuta però da quello che vedo mi sembra che ci sia una buona affluenza. Il premio di partecipazione, presidente? Allora, il premio di partecipazione consiste nella classica bottiglia di olio di mais e abbiamo integrato con un pacco di granetti della Deco. Poi abbiamo 36-37 premi a sorteggio. Che piacciono da morire questi perché è il prosciutto ma poi c'è tanto altro. Ci sono anche dei bei premi. A sorteggio di chi ha fatto l'iscrizione. Esattamente, sì, sì. Solo chi è presente e verrà estratto daremo il premio che verrà dedicato a lui. Allora, quest'oggi aspettiamo tanti partecipanti, poi vedremo il percorso gara ma poi a Latere c'è anche una mini podistica dei bimbi organizzata da voi grazie anche alla collaborazione con una persona che io ritengo eccezionale. Parli dell'Elena Marin? Eh sì. Sì, infatti. La bionda e fervescente. Sì, esatto, sì, sì. È sempre impegnatissima anche con i suoi bimbi dell'Atletica Mercurio. Anche quest'anno sarà presente con qualche ragazzo e quindi ecco, anche a loro verrà dato il premio di partecipazione come gli adulti e poi daremo anche un pacco di biscotti a tutti quanti i bambini giunti al traguardo. Allora, ringraziamenti da fare. Credo sicuramente allo speaker Giulio. Vi saluta, vi mando i saluti di Danny Frisoni che è ancora impegnato sulla 50 quest'oggi. Sì, infatti lo so che purtroppo non riesce ad essere qui con noi. Sì, Giulio è il nostro speaker in questo momento, sta lavorando bene, deve crescere ma però dai ce la mette tutta. Si farà sicuramente. Si farà sicuramente. Avete in casa un fotografo non indifferente, molto bravo, degli scatti molto belli. Avete ospiti gli amici della Todora Ravenna Run, ovviamente con questa gara che state organizzando per il 5 di maggio. Esattamente, sì. È una gara molto, molto, molto impegnativa che stiamo organizzando, praticamente stiamo lavorando dagli ultimi sei mesi, ma questa è una gara che va programmata almeno un anno prima. Infatti finita la gara siamo già in moto per organizzarla meglio per l'anno che viene. Questo è un bellissimo gruppo, è la festa di primavera ed è il gruppo della Teodora Ravenna Run. Dedichiamoci al 5 di maggio, è tutto pronto? Tutto pronto, ci si dente. Tutto pronto, siamo ancora in preparativi perché fino all'ultimo giorno, anzi fino all'ultima ora saremmo pronti a mettere a posto qualcosa sicuramente. Nato solo l'affluenza delle società che vogliono partecipare, le associazioni al vostro villaggio Cinema City so che è già molto ampia. Sì, abbiamo l'Aism, poi c'è Cuore Territorio. Cosa ne pensi di questo evento che è nato così un po' per gioco, è nato comunque per fare camminare, promuovere il nostro bel territorio, soprattutto la città di Ravenna, con questo abbinamento cultura, turismo e soprattutto solidarietà perché voi avete il grande cuore. Certo, è un evento che ci sta portando via parecchie energie e parecchio tempo, ci stiamo lavorando diciamo di brutto e le cose come ha detto Anna sono da fare, fino all'ultimo secondo saranno da fare, fortunatamente le adesioni sono importanti, ne aspettiamo molte anche nel mondo del podismo che è diverso da quello della manifestazione in sé che può essere come pacco, medaglia e maglia, non lo capiscono. Però avverranno la domenica sicuramente tutti i podisti. Città bizantina che è ricchissima di monumenti dell'UNESCO, insomma diciamolo, chi ne ha più di tutte, credo in tutta Italia, è proprio Ravenna. Sì certo, ne ha otto Ravenna di monumenti dell'UNESCO e alcuni che sono monumenti molto importanti come i tappeti di pietra dove il 29 avremo la conferenza stampa, che non è dei monumenti dell'UNESCO ma senz'altro vale il candidato per i monumenti, quindi abbiamo anche tanti altri monumenti. Sette li toccheremo con la camminata, purtroppo Santa Polinari in classe è troppo lontana. Il pettorale per i preiscritti sarà a fondo oro o ocra come qualcun altro l'ha ribattezzato, comunque ricorda l'oro dei mosaici di Ravenna e questo per chi avrà appunto la preiscrezione con maglia e medaglia. Invece ci sarà un altro pettorale per gli iscritti dell'ultimo minuto, della domenica, di un altro colore, colore argento. Abbiamo fatto l'oro e l'argento, quindi tutti da podio, tutti i nostri iscritti saranno da podio. Che non è competitiva, lo vogliamo ricordare. Esatto, ribadiamo che è una camminata non competitiva dedicata a vedere Ravenna, scoprire Ravenna e fare solidarietà. Una medaglia bella. Una medaglia bellissima. La medaglia sarà una sorpresa per tutti. Vorrei aggiungere che ci sarà presente anche Emergency, tramite Cuore e Territorio, saranno presenti anche loro. Cuore e Territorio farà un servizio di cardioprotezione e anche un servizio con un massaggiatore, quindi pur non essendo competitiva comunque abbiamo pensato a tutti. Vogliamo ricordare assieme a te, oltre i pacchetti turistici della Teodora Ravenna Run, anche il 28 di aprile quando sarai tu il protagonista della gara delle promesse di Romagna al corritrovo al bagno Susanna di Punta Marina. Sì, ormai ci siamo. Manca tre giorni, ovviamente cinque. Fra tre giorni siamo sperando nella clemenza di Dio Pluvio, perché qui le previsioni non sono delle migliori. Però, visto che dobbiamo accettare tutte, le prendiamo così come viene, io aspetto tutti i bambini, anche se quest'anno, non lo so, le feste, le Pasqua troppo vicine, tutta questa combinazione di ponti, tante famiglie sono andate via. Comunque, noi aspettiamo le promesse. Il percorso è praticamente tutto quasi in Pineta, nello stradero della Pineta, è super protetto perché non c'è macchina, non c'è pericolo, non c'è niente. Quindi direi che per quanto riguarda le promesse, meglio di così non potevamo fare. Per quanto riguarda Teodora, hanno già esposto magnificamente loro, tutte quelle che sono le convenzioni e le problematiche. È chiaro che una manifestazione così, come la vogliamo fare noi, importante, essendo partiti un po' in ritardo, il primo anno che la facciamo, i problemi non finiranno mai fino all'ultimo secondo, questo è ovvio. Però comunque ce la stiamo mettendo tutta e sono convinto che per il 5 di maggio alle 9 e mezza, quando daremo il via, sarà tutto a posto e sarà tutto bellissimo. Anna, è da sottolineare che questa medaglia porterà un monumento particolare ogni anno, perché questa è solo la prima della serie. Sì, ogni anno cambieremo monumento, quindi cercheremo di, ovviamente, la nostra vita sarà lunga, visto che abbiamo tanti monumenti a Ravenna, vogliamo un po' illustrarveli tutti con le medaglie. E si possono collezionare? Beh, sì, è un ottimo motivo per cominciare ad essere nella prima edizione e chissà quante altre. Quale ci sarà nella prima? Nella prima non c'è nessun monumento, ma... È l'anno zero, l'anno zero, sarà proprio questo il logo, giusto Anna? Giusto, giusto, esattamente. E viva Teodora Ravenna! Ra! E viva Teodora Ravenna! Nome e cognome? Giovanni Romanello. Di dov'è? È dalle parti di Madonna di Campiglio, Trentino. Dalle montagne al mare? Dalle montagne al mare, allora ho i polmoni grandi, un po' più grandi e sono un po' avvantaggiato. E oggi è un po' il vincitore morale di questa gara non competitiva, morale poi, tra virgolette, perché mi sembra che sia andato molto veloce. Mi piace allenarmi, qua mi trovo bene a allenarmi. Com'è stato il percorso? Il percorso è stato bellissimo, tutto in piano, con il terreno bello morbido. È stata la staffetta qua che mi ha indicato molto bene la strada, indicata benissimo, bravissimo, mi ha insegnato benissimo la strada, bastava solo stargli dietro e poi il ritmo lo teneva lui. È stato bravo, è stato bravo, perché se andava più forte non ero capace, non avrei potuto fare la staffetta, perché mi avrebbe, ero al limite. Dalla montagna a montagna, cosa facevi a Madonna di Campiglio prima di venire in Romagna? Intanto come ti trovi in Romagna? In Romagna molto bene, devo dire che si mangia benissimo, infatti a pranzo, prima della gara, mi sa che ho mangiato troppi cappelletti che mi hanno un po' rallentato. Tratti già bene? Ho tratto bene, devo dire che tra le regioni che ho girato in Italia e nel mondo, devo dire che la Romagna si mangia molto bene. Concludendo, cosa facevi invece a Madonna di Campiglio? Madonna di Campiglio ho fatto un po', ho sciato un po' ultimamente, ma in direzione di massima ho girato un po' il mondo nell'Oil & Gas. Non maestro di sci, no? Ho fatto il maestro di sci, ho fatto il maestro di sci negli anni scorsi con papà, fratello, maestro pure. Un figlio d'arte? Un figlio d'arte, un figlio d'arte. Un figlio d'arte, un figlio d'arte. Un figlio d'arte, un figlio d'arte. Siamo continuamente in movimento, costruiamo cose, eventi sportivi, in questo caso oggi oltre all'evento sportivo c'è anche un evento di trovare gente nelle varie panchine, che chiacchia, stiamo parlando, mi si è seccata la gola a parlare con tutti, perché anzi per me è proprio l'occasione ideale, quella di scambiarci opinioni, suggerimenti. Abbiamo riuscito a parlarci anch'io e te, Raffaele. Quindi di tanto, di quello che riguarda il nostro mondo e il contesto è l'ideale. Non è caldissimo, non è freddo, non è anche temperatura ideale anche per la parte sportiva. Comunque c'è stata una gara che è appena terminata, quindi una serie di cose, quindi benvengono, come dico sempre, queste cose qui. Cioè quando ci sono tanti eventi collaterali con un unico collante, quello della gara podistica, io ripeto benvengono, perché ci dà possibilità di scambiarci le due opinioni che poi verranno concretizzate nelle nostre varie riunioni, nei nostri vari consigli che facciamo. Non dimentichiamo, ne abbiamo già ampiamente parlato con tutto l'entourage della Teodora RAN, non dimentichiamo, Presidente, che è il comitato partecipativamente all'organizzazione della Teodora Ravenna RAN. È il nostro esperimento, stiamo facendo una serie di cose che lasceranno il segno, ovviamente un segno che dovrà avere continuità. Per adesso è un laboratorio sperimentale dove per prima cosa abbiamo messo in moto tante società, lavorare assieme, che non è facile, quando hai delle società storiche che lavorano assieme non è così facile, invece ci stiamo riuscendo. Siamo tutti appassionati, tutte persone che come passatempo fanno questo, anche altre cose, quindi è più difficoltoso. Abbiamo avuto qualche cosa che non è sempre funzionato, però stiamo cercando di fare tutto il possibile. Sicuramente questo è il propedeutico per le prossime edizioni, perché noi sicuramente stiamo facendo veramente le cose in un certo modo. Che può per iscriversi? Allora, fino a domani c'è possibilità di avere... Domani è il 26 di aprile. Però fino al 2 di maggio per le iscrizioni e comunque anche la mattina c'è modo di iscriversi per la gara, diciamo così, quella, la camminata normale. www.teodora.ravenna.ru.it Quanti eravamo quest'oggi? 738. Buon numero! Sì, infatti inizialmente un po' per il meteo che si stava mettendo contro, un po' per l'accesso a Marina di Ravenna, un po' dato dal traffico che nella giornata di oggi si aspettava. All'inizio avevo paura che facessimo fatica a oltrepassare i 500 iscritti. Che dirti? In bocca al lupo per tutto quello che sarà la giornata. Ti saluto anche Danny Frisoni, ti lo volevo dire, ti mando un caldo saluto. Lo ringrazio e lo saluto anch'io. Tranquillo, non gli porterò via il posto. Io mi diletto solo qui il giorno del 25 aprile. Nella tua società. Nella mia società, sì, esatto. Chissà che non lo vediate da qualche altra parte. Non si sa mai nella vita. Work in progress. Ciao Giulio. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.